Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo wiki vlog! C'è il sole, c'è il sole, sono in cucina, per questo ho questa illuminazione dall'alto. Allora, devo lavare 150 milioni di piatti, miliardi di piatti, devo lavare i piatti, insomma, quindi forza e coraggio. Sto da sola e domenica Luca è andato a suonare oggi due volte perché c'è un matrimonio e poi stasera suona in un altro posto. Quindi non so, penso che tornerà stremato stanotte ai due e io sono a casa da sola e in realtà stavo sul divano a giocare col videogioco, così non fa niente a guardare la tv. Ma no, no, non mi lascerò vincere da questa domenica pigra, ma adesso mi metterò a fare cose perché è giusto, perché se no butto la giornata sul divano. E soprattutto perché mi è arrivato un pacco di una cosa che mi piace tantissimo fare, e lo sapete che mi piace farlo. E voglio cominciarlo perché tra l'altro è un disegno bellissimo, sto parlando di diamond painting chiaramente, e voglio cominciare a farlo oggi pomeriggio. Però, tipo, so già l'una e perciò se non pulisco la cucina e mi metto direttamente a fare il diamond painting, ci butto tutto il pomeriggio e la cucina rimane lercia. Perché altro ho i piatti, poi fa caldo e fa schifo. E quindi, niente, adesso laverò tutti i piatti, così poi mi posso dedicare al mio hobby di diamond painting, perché le missioni del giochino l'ho fatte, quelle di oggi, e quindi il giochino l'ho già giocato. Comunque ieri da Gioeffra ho mangiato troppo, perché quando Francesca fa la pizza è a rovina. Ma soprattutto ho mangiato quelle lumaghelle, va bene, che è tipo, perché non ha visto il wikivlog della settimana scorsa, sono tipo dell'impasto della pizza, ma fatto a lumaghina, diciamo. E le mie erano col formaggio, ma non lo so, ne avrò mangiate 30, non le ho quantificate. E quindi oggi anche no. Ma c'ho da consumare la pasta dei ceci e una ricotta, che se non scadeva. E, regà, la ricotta è buona, ma basta, diciamolo. La pasta di legumi non è buona, non è buona. Cioè, rende tutto... Fa bene? Sì. Quindi la pasta di ceci con la ricotta fa bene? Sì. È buona? No. La mangio lo stesso? Sì. Sono felice? No. Ma va bene lo stesso. Vabbè, mangio e guardo un po' di YouTube. I piatti l'ho lavati. Pranzato, ho pranzato. E adesso è il mio momento. Il momento hobby. Allora, non so se vi ricordate un po' di tempo fa. C'avevo questo e l'ho finito. La mia opera prima. Finita. Vedete? Ora c'è solo un dubbio, no? Io ho finito. Mi piace. A me fare questa cosa mi rilassa molto. Cioè, mi diverto, no? Poi sto da sola, metto là, faccio cose cose. Però, mo' che l'ho finito, che ce faccio? Cioè, lo so che quello si incornicia e tu lo metti, che ne so, fai in quadro. Ma io le pareti di casa ce le ho praticamente tutte piene. In più, non lo so, ho fatto gli orzetti del cuore. Dove li devo mettere? Secondo me dovrei semplicemente regalarlo a qualcuno che ha magari bambini e lo appende in cameretta. Non lo so, non lo so. Comunque, sono qui con la mia Red Bull. Evviva. E il mio pacchetto. Eccolo. È arrivato il pacchetto. Allora, il pacchetto me lo manda One Day Saving. E vi lascio tutti i link in descrizione, come al solito. E mi hanno detto, scegli, se ti va, dei Diamond Painting. Perché abbiamo visto che ti piacciono. Mi piacciono! Sono, a parte che, vabbè, come al solito ce ne stanno 300 milioni. Alla fine era un confusione, ne ho scelti un po' tre a caso. Non ci hanno solo il Diamond Painting. Ci hanno anche tutte le altre cose, diciamo, di manualità. Quindi anche il punto croce. Ma quello è stato un esperimento fallimentare. Ce l'ho provato a fare il punto croce un po' di tempo fa. No, ho fatto pure un pezzo. Poi ho abbandonato. Troppo complicato. Non fa per me. Questo invece mi piace proprio. Vabbè, insomma, ci hanno tutte le cose, quelle manuali, fighissime. Ma quello che interessa a me è il Diamond Painting. E tra l'altro, non solo me. Perché so che un sacco di voi ci stanno in fissa e lo fanno. E io ho contagiato Donatella. Infatti, gliene ho regalati alcuni dei miei. Perché poi non c'avevo tempo. Ho detto, no, vabbè, dai, basta, smetto. Invece poi mi hanno scritto. Ho detto, no, è che mi piace, lo voglio fare. E quindi comincerò un nuovo progetto. Però anche Donatella è stata contagiata dal Diamond Painting. Ma, ragazzi, è rilassante. Cioè, c'è qualcuno che mi dice, io impazzirei a fare sta cosa. Ma a me mi rilassa. Non lo so. Comunque, vediamo cosa ho preso. Che alla fine li ho presi un po' a caso. Allora. Ho preso questo. Ci sono di varie dimensioni, da piccolini a giganti. Posso dire, mi trovo più soddisfacente farne uno gigante. Cioè, fosse per me ne farei tipo uno così. Solo che, chiaramente lo spazio è quello che è. Ma fosse per me ne comprerei uno dei due metri, capito? Cioè, mi piace proprio l'idea che sia gigante. Ah, carino. Questo è più piccolo. Però carino. Capito? Poi, quando l'ho finito, ma dove li metto? Do li metto? Però bello questo, con gli orsetti. Ce n'erano un sacco con gli orsetti del cuore. Proprio tanti. Come sempre, va arriva dentro la vaschetta per i diamantini, la cera, il pennino per chi ha fatto i diamantini e tutto il kit con i numeri che corrispondono poi al coso, ai diamantini che dovete appiccicare. E questo è uno. Ora dobbiamo decidere da quale cominciare. Ah! Questo era Mystery. Perché a un certo punto era un confusione. Ce n'erano veramente troppi tutti belli. E poi c'era scritto Mystery Painting. Potevano scegliere Mystery? Certo. Ho scelto Mystery. Cioè, ho letto Mystery e ho detto, va bene, lasciamone uno al caso. Vediamo. Quindi io non ho idea di che disegno ci sia in questo. È gigante! Guardate la quantità di diamantini! Aiuto! Sempre il kit. Che cos'è? Un fiore de loto del potere de non lo so? Che cos'è secondo voi sto coso? Un fiore però. Una candela. Un scettro de potere. Non lo so che cos'è. Però è 40 per 70. È gigante. Va bene. Questo è Mystery. Quindi se voi scegliete Mystery poi vi ho capito a qualsiasi cosa. Mi pare che se scegliete Mystery costa un po' meno. Va bene. Questo era Mystery. E questo è il progetto ambizioso che vorrei portare avanti quest'estate. Vediamo quanto è ambizioso. Cioè se è fattibile. È enorme. È 50 per 70. Dove lo metto? Mentre lo faccio? A parte che lo devo stendere per... Madonna che bello! No. Non sono sicura di voler cominciare. Questo è il kit. Non sono sicura di volerlo cominciare. Ma sono casatissima. Devo stirarlo bene. Allora così non renderà. Ma in pratica sono... È come una galleria di quadri della Disney. C'è Biancaneve. Qui c'è Malefica. Cioè ci sono tutte le principesse Disney nei quadri. Oh mio Dio. Sì lo voglio fa. Io lo voglio fa. Adesso acchitto tutto. E comincio. Oddio come sono gasata. Tra l'altro io poi... M'ero comprata anche tutti i kit. Perché loro ti danno quello base. Ma se vuoi diventare un vero pro del Diamond Painting. Avrai bisogno di vaschette porta diamantini. Allora io queste le ho usate. Perché le ho usate per... Per gli altri lavori che ho fatto. Quindi sopra ci sono le scrittine. Però le posso togliere chiaramente. Questa è proprio super pro. Cioè l'avevo presa apposta. Mentre questa invece era una scatola porta gioielli. E ci ho messo etichette sopra io. Ora c'ho solo... Ecco. Questa è come ho ridotto l'ultima cera. Molto bene. Sembra una groviera. La buttiamo. Ora c'ho solo un dubbio no? Questi mi sono avanzati. Io i quadri li avevo finiti. Sia questo che questo. Che ce faccio? Cioè li butto via. Perché ve ne danno in più chiaramente i diamantini. Ma tanti di più. Quindi li butto. Però buttarli così nel secchio mi pare un crimine. A parte perché forse può avvenire una cosa carina. Un altro un piccio da mettere in casa. Ma poi perché ho paura che... Metti che se rompe la busta me si sparpagliano ovunque. Quindi ho pensato di schiaffarli in un baratto. Il barattolo che ho asciugato. Lasciandoci dentro dello scottex. Il barattolo del miele. E mo li travaso tutti qua dentro. Perché che ce faccio se no? Vabbè mo faccio sto travaso. Faccio il barattolo. Poi macchito tutta la postazione. E mi metto a far diamond 20 che ho tutto il pomeriggio. Madonna quanti sono! Aiuto! Mamma mia! Vabbè. Ah e poi c'ho pure tutti questi. Perché mi ero comprata tutto il kit del professionista. Dove dentro ce stanno le pizzette. L'imbuto per mettere i diamantini senza farli cadere. Questa è la matita mia. E poi ci sono... Non c'ho più kit. Più pinzette. Poi ci sono le etichette. Per rietichetta quelli. Altra cera. Altre vaschette. E poi tutti questi che hanno anche il coso più lungo. Quindi tu metti il pezzo di cera lungo. Poi metti i diamantini tutti in fila nella vaschetta. E ne chiappi direttamente 6 per volta. Vabbè raga aspettate. E so chiacchierare troppo. E' che sta cosa mi casa brutto. Cioè mi piace proprio. Quindi c'ho pure il codice sconto. Mi hanno dato. E questo qui. E' il codice sconto per acquistare su One Day Saving. Ma ve li scrivo anche in descrizione. Comunque mo' macchitto tutto e cominciamo. Mi bevo pure a Red Bull. Perché c'ho bisogno di concentrazione. Ho iniziato il mio progetto. Raga cioè sta cosa sarà infinita. Non so ma ci vorrà tutta l'estate forse per finirlo. Però bello. Allora intanto stavolta ho ritagliato il quadratino. E lo riempio. Poi ne taglio un altro quadratino. E via così. Mamma mia quanto è bello però. Sì. E niente ho cominciato con questa lettera B. A parte che io ho il problema dei peli dei cani. Che si attaccano dappertutto. Ma va bene. Ho cominciato con la lettera B. Questo è il mio vassoietto. Tu sei gli attrezzi del mestiere. Oddio sono casatissima. Vediamo. Vado avanti e vediamo tra un po' dove sarò arrivata. Non ho fatto solo questo tutto il pomeriggio. Ho fatto anche altro. Tra cui lavatrici. Cambiare lenzuolo al letto. Stare dietro a sti tre rimbambiti. Però ho fatto questo pezzo. E raga sembra pochissimo. È vero sembra pochissimo. Ma vabbè a parte che ci avrò dedicato due ore forse. No meno. Secondo me tra tutto meno di due ore. Non lo so. Però cioè ci vuole veramente tanto tempo. E soprattutto mi sono resa conto. Che non ci sono tutte le principesse Disney. Ma è solo tipo malefica. Quindi c'è la strega. C'è in mezzo malefica. Che guarda tutte le scene di Biancaneve. È bellissimo. Ce lo amo. Tra l'altro. Fun fact. Il primo cartone animato. Che mi hanno portato a vedere i miei nonni. E ero tipo super piccola. Ce l'ho avuto non so. Quattro anni forse. È stato al cinema Andrea Doria. Insomma cose c'è più. A Roma. E le sedie del cinema Andrea Doria. Erano di legno. Cioè c'erano le sedute di legno. Cioè una cosa veramente sembra. L'antichità. È l'antichità in realtà. Perché sono passati 35 anni tipo. E il primo film cartone animato. Che mi hanno portato a vedere è stato Biancaneve. E ce l'ho questo ricordo. Ce l'ho vago. Però ce l'ho questo ricordo. E mi ci portarono nonno e nonna. E bello. C'è un bel ricordo. E questo è tutto su Biancaneve. Che storia ragazzi. Cose che non ti devono succedere. Ma ti possono succedere. Se a casa tua non c'è il gas. Ma c'è la bombola. Finisce. Quando stai preparando la cena. Ovviamente. Ho messo il tofu. Per farlo croccante in padella. E ho acceso il gas. E poi mi sono accorta. Che era spento. Perché è finito. È finito. E niente. Vabbè. Almeno è finito di domenica sera. E non è finito di venerdì sera. Come succede di solito. Lasciandoci due giorni senza gas. Perciò niente. Domani dobbiamo andare a comprare la bombola nuova. L'ultima l'avevamo cambiata a Pasqua. Quindi. Aprile. Solo due mesi è durata. Forse non era Pasqua. Sai che non mi ricordo. Quando abbiamo cambiata l'ultima. Beh. Vabbè. E niente. Sto usando la freggetrice ad aria. Per fare il tofu croccante. Spero che venga lo stesso. Non lo so. Sono tornata a casa dal lavoro. E. Quanta bella mia maglietta nuova. Ve l'abbiamo fatta vedere. Nel video della mystery box. E. Sono tornata a casa dal lavoro. Ieri. Questa sembrava normale. Cioè pure ieri sera Luca mi ha detto. Oh. Quando sono tornata ho mangiato la pizza sul divano. Sariva sul divano. Sartava come al solito. Oggi. Di nuovo. Così. Amorfa. È tipo triste. Non lo so. Però vedete. Se la tocco non fa niente. Prima. La volevo acchiappà. Per tirarla sul divano. Perché non saliva. Non se sa. E piangeva. Cioè. L'ho fatto per prenderla. E ha urlato. Senza toccarla. Adesso la tocco. E non piange. Sarà la capoccia che non è buona. Comunque l'ha chiamato il veterinario. Mi ha detto. Ma porti che guardo. Se non c'ha niente. La tocchi. Non c'ha niente. Ha detto. Tienila ancora monitorata qualche giorno. Mi ha detto. Mangia. Beve. Sì. Fa tutto. Il cane. È matta. Sì. È matta. E quindi niente. Mo aspettiamo qualche giorno. Vediamo come evolve la situazione. Secondo me è la capoccia però. No. Si è spaventata di qualcosa. Si è spaventata di qualcosa. Secondo me. È rimasta tipo scioccata. Però sta bene. Ecco. Mo si arrampica. Prima non si muoveva. Mo si arrampica. Cambio cane. Quindi io non lo so che c'ha. Però cioè. Sta bene. Veramente. Se sei male. Mi preoccuperei. Ma non c'ha niente. Vabbè. Io comunque. Per farvi vedere che. Non è che. Cioè. Sto qui ancora. A attaccare diamantini. Oggi sono stata al lavoro tutto il giorno. Per pensare. Amo torno a casa. Mi metto a attaccare diamanti. Amatta. Poi dopo dove. Manno a comprare assolutamente. La bombola del gas. Perché stiamo senza gas. Se non potremo mangiare. Cioè. A parte che è estate. Si può stare anche senza. Però. Metti che Luca vuole in piatto di pasta. Poi mi tocca farla a microonde. Vabbè. A dopo. Mi sa che sto vlog durerà tantissimo. C'ho questa sensazione. Perché poi Luca non lavora. Cioè. Stasettimana fa solo il fine settimana. Quindi. In realtà faremo parecchie cose. Anche se in realtà. Già tipo domani. E' un video che vedete a parte. Perché domani sera a cena. Facciamo una cena a tema. Quindi. Quello poi lo vedete a parte. Vabbè. Un giorno in meno. Missione bombola compiuta. Eccola. Eccolo. Un monti colorato. Con la bombola. 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 Mini mini. Svuota la spesa. Siamo stati all'emisfero. Perché domani. Ma già l'avete visto. Credo. Facciamo la cena americana. Del 4 luglio. Con Giovefra. Chiaramente. E volevo fare. Sapete quell'insalata. Quella che mangiano in America. Col cavolo. Cappuccio. La salsa. Vabbè. Volevo fa quella. Allora ho trovato la ricetta. Però. Dovevo prendere gli ingredienti. Cavolo. Le carote. Ho già prese così. Le faccio prima. Senza mia tappella di carote. E poi ci va lo yogurt. Questo. Bianco naturale. La senape. E. La maionese. Una cosa leggerina. E poi ci va l'aceto. E vabbè. Sale. Pepe. Però. Vediamo. Se mi viene. Non lo so. Non l'ho mai fatta. Ci provo. Però il risultato. Se ve lo siete perso. È nel video. Della scena americana. Comunque c'è un negozio. L'ho visto stamattina. Dall'autobus. Ta-da. Solo che. Posso dire. Cioè. Costano tanto. L'avevo visto su internet. Queste sono carine. Però. Non sono abbastanza belle. Per il prezzo che hanno. Mettiamola così. Houston. Ci abbiamo un problema. Allora. Due settimane fa. Due settimane fa. Avevo ordinato una boxy. Too good to go. Ok. Come al solito. Quelle. Classiche. Ve l'ho anche detto nel video. Di quella poi successiva. La ordino. La spediscono subito loro. Ma arriva subito il tracciamento delle poste. Bloccato. Cioè. Praticamente. Restava fermo al numero due. Non so se ce l'avete presente. Quando arriva il tracciamento delle poste. Tipo. Partito dal centro di smistamento. Una cosa del genere. Bloccato. E l'inchiodato. Quindi io. Gli mando un messaggio. Gli dico. Guarda. Cucciolo. Passa una settimana. Mi sa che. Lo so perso. E quindi mi fanno il rimborso. Con il rimborso. Ci compro un altro pacco. Che però. Mi arriva subito. L'altro giorno. Sono uscito un sacco di boxe nuove. Tra cui. Quella ciliaca. E io ho detto. Beh. Fico. Prendiamola. Quindi. Prendo sta box. Ciliaca. Perché comunque. Dentro c'era scritto pasta. Stasughi. Quindi alla fine. Cose che consumo. Detto così. Non spreco niente. Perché ce ne erano pure altre. Però. Mi sembrava roba. Che poi. Non si consumava. Quindi niente. Compro sta box. Ciliaca. Ormai. Tre giorni fa. Sì. Me la spediscono subito. Sul tracciamento. C'era scritto. Che sarebbe arrivata. Oggi. Ma. È ferma. Da. Quando me l'hanno spedita. Come l'altra volta. Al che oggi. Gli scrivo. Guarda che. Mi sa che. È successa. La stessa cosa. È l'altra volta. Forse c'è un problema. Con le poste. Non lo so. No. Vabbè. Insomma. Questo mi dice. Ah. Bisogna aspettare. Sette giorni. Quindi. Allora. Non è tanto. Per la box persa. Che. Me ne frega. Pure. Relativamente. Cioè. Nel senso. Tanto. Mi rimborsano. Però. So. I 21 euro. 22. Questa costava. 21,90. Bloccati. Che non posso usare. Per comprare. Un'altra box. Non posso usare. Per comprare. Roba. Su Timu. O su Shin. O su. Tommaghi. I soldi. Li metto nella carta. Quella prepagata. Per fare gli acquisti online. No. Perché. È più sicuro. Tra l'altro. Ho pagato con Paypal. Quindi. Comunque. Me lo rimborsano. Però. Sono soldi. Che. Io. Ho usato. E sono bloccati. Per. Almeno. Altri. Sette giorni. Cioè. Ma allora. Fammela pagare. Quando mi arrivo a casa. Cioè. I soldi. Scalameli. Quando mi arrivo a casa. Se. Ve stanno associate. Ste cose. Ora. Non so se. È solo un problema. Del mio indirizzo. Cioè. Che. Poi. Non è il mio indirizzo. Perché. È proprio bloccato. Da dove la spediscono. Cioè. Loro l'hanno data. Alle poste. Ma poi. È resta bloccata. Alle poste. Di non so dove. Cioè. Non c'è mai arrivata. A qua a Perugia. Non è che non me l'hanno consegnata. Cioè. Ultimamente. Sono sfigatissima. Con le poste. Avevo comprato una cosa su Vinted. Per Luca. Compro questa cosa su Vinted. La ragazza la spedisce subito. Persa. Cioè. No. Persa. È arrivata a Perugia. Ma non l'hanno mai consegnata. Perché era in un locker in post. Non è mai arrivata al locker. Nonostante era arrivata a Perugia. Da Perugia è ritornata al paese della ragazza. A casa sua. Cioè. Mistero. Veramente. E quindi niente. Adesso ho dovuto aspettare che mi rimborsassero i soldi dell'acquisto che avevo fatto. E poi ricomprarlo di nuovo. Quindi ora sto aspettando che mi riarrivi. Tra l'altro. Mi sono accorta oggi. Ordinando di nuovo. Che hanno tolto i locker in post. Quindi evidentemente c'era un problema con i locker. Perché. Se no non si spiega. Vabbè. Fatto sta che mo. C'ho sti 20 euro bloccati. Volevo comprare un'altra box. Però non ti do altri 20 euro. Se poi dopo non mi arriva manco quella. Aspetto che mi rimborsi. E poi magari compro un'altra box. Quindi niente. La settimana prossima lo porto una box. Non me la posso portare una box. Perché. Eh. Cioè. Non me l'hanno fatto il rimborso. Non me lo fanno prima della settimana prossima. E me scoccio. Le dà gli soldi. E abbuffo così. Che ripeto. Lo so che mi rimborsano. Però. Cioè. Magari poi non mi arriva manco quella. E quindi poi devo aspettare due rimborsi. No. Al massimo. Vorrei dire che la settimana prossima. Prendo una box al supermercato. Che forse è anche più divertente. Decisamente. Anche perché poi. Visto che tanto ormai non arriverà. E quindi ve lo posso dire. L'ho visto il contenuto della box. De. Dei ciliaci. C'erano dentro. 12 pacchi di pasta. Di quella. Della riso scotti. Tutti uguali. Erano tipo. 12 di due tipi diversi. Tipo gli spaghetti. Che ce l'abbiamo. Perché l'avevamo già trovati. E poi un'altra pasta di amaranto. Tipo. Una cosa del genere. E poi c'era. Due passate di pomodoro. Uno scatolo. Un coso. Un barattolo di aglio. Quello. Che non abbiamo capito. Come si mangia. No vabbè poi l'ho capito. Però comunque che non mangio. Un barattolo d'olive. Un barattolo di pomodorini. Al forno. Cioè tutte quelle cose. Sott'olio. E poi due scatolette di caramelle. Sai. Che non ho capito. Perché c'erano. Quindi. Alla fine. Non è stata. Sta grande perdita. Anzi. Quindi. Forse. Meglio. Le box dei supermercati. Decisamente. Siamo arrivate dal veterinario. Ora avremo un risponso. Spero. Volevo fare un aggiornamento. Porto. Ci sono i meloni. Guardate che carini. Aspetta. Non si vedono. Eccoli. Guarda quanti. Wow. Poi qui che ci abbiamo? I cetrioli appena raccolti. Poi abbiamo qui. Pomodori. San Marzano. Ancora verdi. Pomodorini. Un po' sofferenti. Questi quest'anno. Non ci hanno dato. Grosse soddisfazioni. Gran peccato. Questi sono ancora verdi. Però ce ne stanno tanti. Questi se sono fatti. Quelli in basso. Questi no. Questi sì. Boni. Tra l'altro ho mangiato l'altro giorno. Comunque ci siamo quasi. Dopo vi racconto dei babbi. Cominciamo un briaggez. Domani. Bello. Penso ci riusciremo a venire un paio di sere. Luca non dovrebbe lavorare sempre. Non lo so. Ma vado a lavorare. Come sta babischi? Babischi sta così. Allora. Il veterinario ieri ci ha detto. Che potrebbe essere una forma di artrosi. Sei una vecchia in pratica. Tre anni. Già c'è artrosi. Ha detto. Succede con i cani piccoletti. Allora. Vedete. Io adesso la riesco a toccare. Cosa che questi giorni non era fattibile. Adesso facciamo una cura. Una cura soprattutto di integratori. Sta meglio. Cioè quando prende la pasticca sta proprio meglio. Se subito è istantanea. Cosa tipo 20 minuti e riparte. Puoi pure non rileccarmi comunque. L'unica cosa. Allora. Non piange già da ieri. Tra l'altro. L'abbiamo portata dal veterinario. Quello l'ha schiacciata. L'ha toccata. L'ha tirata. Le zampe. Non ha fatto un verso. Noi sti giorni gli facevamo così. Sì. Leccami. Salama. Vabbè. Comunque. L'importante è che adesso si fa toccare. Perché sti giorni gli facevamo anche toccare. È sempre un po' titubante. Perché sicuramente ci avrà un po' di dolore. L'unica cosa. Che non riesce proprio a fare. È salire. Quindi lei scende da sola dal divano. Dal letto. Quasi sempre. Ma non riesce a salire sul divano e sul letto. Che per lei è molto strano. Perché è un cane che fa su e giù. Cento volte. Quindi adesso. Vabbè. Quando vuole salire la prendiamo noi. E praticamente sono diventata un ascensore umano. E è molto strano. Perché lei è iperattiva. E sti giorni è stata molto tranquilla. Anzi oggi già. Un po' meglio. E' vero. E' vero. Insomma. Cioè. Finché. Se è artrosi. Pace. Voglio dire. Farà gli integratori. Per tutta la sua vita. Cioè. A cicli. Perché quelli si fanno a cicli. Però. Farà gli integratori. E' apposto. L'importante è che non è niente de grave. E' vero babischi. E' nota positiva. E' che non riuscendo a salire. Non ti riesce a salire neanche addosso. E quindi mentre mangi. Ti lascia mangiare. Senza salirti addosso. Questa è la nota positiva. Del fatto che non riesce più a salire sul divano. Che basta che la lasci giù. E non riesce a saltarti addosso. Mentre mangi. E' vero. Però insomma. Pare che stia meglio. Pare. Però perché. E' successo tutto a caso. Quindi. Non so bene che cosa. Cioè. Come sia successo. Perché a questo punto. Non è stata una botta. Se è artrosi. È artrosi e basta. Boh. Magari ne so. Vabbè. L'importante è che sta meglio. Siamo venuti in centro. Perché stasera Giacomino. Suona. Qui in centro. E quindi. Solo che suona l'aperto. E ovviamente. Nonostante tutte le previsioni. Del mondo. Davano sole. Sta piovendo. Cioè in questo. Ecco appunto. In questo momento. Sta piovendo. Quindi non sappiamo. Se suonerà. Comunque. Se sarebbe tra un po'. Quindi intanto. Ci andremo a fare un aperitivo. Comunque a ripararci. Amore. Perché sta diluviando. Che fortuna. Devo raccontare un trauma. Una ragazzina. Mi ha appena venuta a sbattare addosso. E mi ha detto scusi. C'hai 40 anni. Sì ma c'ha una maglietta di Barbie. Tu hai i capelli gialli. Ah Luca ha cambiato di nuovo colore dei capelli. Dove ha visto un signore però. Ma mi ha detto scusi. Ma no scusi. Ragazzi abbiamo un Giacomino che suona. E guardo Massetti. Guardate guardate un Giacomino concentrato. Non ve lo posso far sentire. Solo qualche nota. Però guardate com'è concentrato il Giacomino. Ed ecco a voi. Un Giacomino che suona. Guardatelo. Non è concentrato. Buonasera leoni. No in realtà non siamo tornati neanche troppo tardi. Però c'ho sonno uguale. Tra l'altro c'è sto cielo. Ma i previsioni dicono che c'è il sole. Boh vabbè. Niente. Vado a lavorare. Cosa c'è dietro un video YouTube? Io che esco con penso 45 gradi. Non lo so. Per andare al Penny Market. Perché così domani vi metto il video dell'omaggio anche del Penny Market. Sto evaporando. Sto evaporando. Letteralmente. Oddio. C'è tanto sole. Ho scordato gli occhiali. Sabato. Ieri in realtà non ho fatto niente. De che insomma. A parte fare la spesa. Tutto il giorno. Per fare video. Fa caldissimo. Caldissimo. Nel senso che ho dovuto chiudere i cani dentro. Perché fuori ci stanno forse 40 gradi. E il sole. Tanto che questa è la seconda lavatrice che stendo. E si è già quasi asciugata. Cioè la prima si è asciugata. L'ho ritirata. E ne ho fatta un'altra. E si è quasi asciugata. Cioè. Pazzesco. E Luca è andato a suonare di nuovo. E è tornato stanotte. Stamattina. Era l'album. Cioè. Erano i sei. Era giorno. E ha dormito. Si è svegliato. Si è fatto la doccia. E è ripartito. Perché c'è un matrimonio. Niente. Io sto in casa. Ventilatore acceso. Finestre chiuse. Perché entra solo caldo. E sto di nuovo facendo la mia cosa preferita. Tadà. Cioè. Questo video finisce esattamente come comincia. Perché io ho continuato. Nel frattempo ho fatto tutta questa striscia. Considerate che ieri non l'ho fatto per niente. Perché mi ero persa la bustina. La trovavo. Era finita la diatrar il divano. Quindi ieri volevo fare. E non ho fatto niente. Poi ho fatto tutto questo pezzo. Io ora sto facendo quest'altro quadro. Secondo me oggi. Potrei. Azzardare. Di finire tutto sto pezzo. Possibile. Comunque in descrizione vi lascio. I link. Tutte le promozioni. I codici sconto. Perché. So che tanti di voi ce l'hanno. Sta passione. E su questo sito si trovano tantissime immagini. Molto belle. E anche molto famose. Tipo la Disney. Quindi. Se volete andare a dare un'occhiata. Io vi lascio tutto in descrizione. Io niente. Direi che. Per questo vlog. Che ho già montato. E è lunghissimo. Perché abbiamo fatto un sacco di cose. Direi che vi posso salutare. Ma. Sappiate. Che sarà una settimana intensa. Perché. Vado a Roma. E vado da Primark. Vado da Primark. Quindi. Quindi. Questa volta. Sperando di non cancellare il video. Che ho fatto la scorsa volta. Finalmente. Vedremo un video di Primark. Lei. Sta molto meglio. Non sale ancora. Nonostante sul video. The Penny Market. È salita. Però non sale. Cioè. Sale solo se non ci pensa. Secondo me. Però sta molto meglio. E. Niente. Quindi. Sarà una settimana intensa. Tipo. Lunedì e martedì. Sono a Roma. Cioè. Vabbè. Lunedì. La sera. Arrivo. Non è proprio. Però martedì. Sto a Roma. Tutto il giorno. E. E poi torno. Cioè. Non è che. Ci ha dato proprio panna da Primark. E. Perciò. Iscrivetevi al canale. Se non vi siete iscritti. Perché arriveranno i video di Primark. Poi lo svuota. Spacchettamento di Primark. Poi ci stanno Caterina e Silvano. So che vi piacciono Caterina e Silvano. E. Tra l'altro. Un'azienda mi ha mandato un regalo per Caterina. Non lo so. Mi sembra normale. Vabbè. Sono merita. Cioè. Sta. Gli piaceva. Era una cosa che gli piaceva. E. Niente. E quindi. Io direi che. Da questo vlog. Vi saluto tanto. Quello che farò io il pomeriggio. A continuare a attaccare diamantini. E guardare telefilm. Quindi. Niente di che. E. Quindi. Da questo. Wiki vlog. È tutto. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Ciao.